buongiorno e benvenuti nel canale arrampicata golden e anche un po di meteo sat il cielo è grigio è terribile scoppiata sei minuti fa ha raggiunto il suo apice in tre minuti e adesso sta sfogando di nuovo pioggia torrenziale con chicchi di grandine a torino adesso non voglio bagnare completamente la videocamera sta piovendo a dirotto allora cosa abbiamo sul mio balcone abbiamo quei poveri pomodori come più così che la grandine me li sta buttando via mia mamma è riuscito a coprire qualche piantina ma un'ennesima dimostrazione di come il clima è diventato monsonico è terribile monsoni a torino non montoni e montoni quelli li troviamo dal kebabaro e invece qua abbiamo monsoni volevo ballare nudo sul balcone sotto la pioggia ma il vicinato mi ha pregato di non farlo bellissimo è